Musica Ragazzi, andate a teatro perché è una figata pazzesca e soprattutto non solo voi avete bisogno del teatro, ma anche il teatro ha un sacco bisogno di voi Oggi avete un'opportunità in più per andare a teatro sono degli inviti che il Comune di Milano può darvi gratuitamente grazie alla collaborazione con il sistema dei teatri convenzionati di Milano Ragazzi, ragazzi, venite a teatro, il Comune di Milano vi dà la possibilità di venire gratuitamente di prenotare biglietti online perché andare a teatro è divertentissimo e perché così almeno ci sentiamo tutti un po' più milanesi Basta andare sul sito, una poltrona per te e da lì scegliere lo spettacolo più bello Andate a teatro perché poi vedete che avrete voglia di tornarci Il progetto è quello di trasformare un'iniziativa che storicamente ha sempre contraddistinto il Comune di Milano che sia Milano che lo spettacolo in qualche cosa di diverso in qualche cosa che contribuisse a costruire progressivamente il pubblico di domani Sostanzialmente quello che abbiamo voluto fare è rivolgere soprattutto l'offerta al pubblico anche al 35 e quindi contraddistinguere questa idea della gratuità come una forma di invito che il Comune di Milano realizza per il pubblico più normale per il pubblico che magari non ha consuetudine andare a teatro una speciale attenzione è stata rimonta ai giorni di seconda generazione nella consapevolezza che andare a teatro può anche essere una ritualità sociale che costruisce una nuova forma di dialogo interculturale e di intusione Questa è sicuramente una visione a cui le istituzioni non sono molto abituate spesso in quest'ultimo periodo le istituzioni hanno un'abitudine a lavorare molto sull'emergenza si dimentica una volta di come sia più importante lavorare sul lungo periodo anche se i risultati non sono immediati e quindi lavorare sulle seconde generazioni e sui nuovi milanesi vuol dire iniziare un percorso di lungo periodo e quindi anche l'innovazione dell'approccio dell'amministrazione delle istituzioni in generale dal 0 ai 18 anni i bambini e ragazzi di origine stradina presente Milano sono 53.402 mentre quelli che vanno dai 19 ai 30 sono 47.000 quindi stiamo parlando di un pubblico ampio un pubblico dei numeri che ti danno anche l'idea di un'opportunità oggi mettiamo un tassello in più che è quello di facilitare l'accesso all'acquisizione dei biglietti legando la possibilità quindi di venire ancora qui fisicamente e tirarli alla possibilità di farlo attraverso il web che è il strumento ovviamente più immediato e che ci permetterà anche una diffusione pubblicitaria più facile quello che stiamo provando a fare è in qualche modo e lo dico attraverso questo progetto attraverso l'istruzione adesso della student card che metteremo in campo quella di costruire un percorso di inclusione attraverso nuovi meccanismi di welfare